Il Pescara usa la testa, ritrova il sorriso, Cascione vince al debutto contro il Ponte Nera all'Adriatico, successo meritato, ripartendo da una buonissima applicazione in fase di non possesso. Nella prima frazione squadra compatta, diligente, zero rischi ma capace nel contempo di creare più di un'occasione. Allo scadere il gol partita è realizzato dal solito Davide Merola, autentico fattore, segna sempre lui per il 10 biancazzurro, sono 15 in campionato, una regolarità impressionante, 11 reti nelle ultime 11 partite, a secco solo nella trasferta di Gubbio. Nella ripresa il Pescara si abbassa troppo, tra i reparti equilibrio sì, linee strette ma con tanto, troppo campo, Merola e compagni fanno fatica a ripartire. Biancazzurri sicuramente attenti ma rinunciatari. Nell'ultimo quarto d'ora il Ponte Nera passa dalla 3-4-2-1 al 4-2-3-1 con quattro punte, Salvadori, Del Pupo, Ianesi e Selleri. Guidi si alza il centrocampo al fianco di Giacchiti che è 10 dall'epilogo Cestina, la più limpida delle opportunità per pareggiare i conti. In realtà l'unico vero pericolo corso dai biancazzurri negli interi 90 minuti. In sintesi il Pescara ha lavorato sui propri difetti, fase di non possesso, senza perdere i propri pregi, giocate offensive, sebbene limitate alla prima frazione. Cascione si è affidato alla logica e al buonsenso. L'imperativo era fermare l'emoragia di gol subiti, missione compiuta, porta inviolata e soprattutto senza retorica, vittoria di inestimabile valore. Naturalmente tante cose da correggere e migliorare, in primis la velocità nella trasmissione della palla, ma nessuno ha la bacchetta magica. E così, dopo un mese e diverse umiliazioni, tre punti senza subire gol. Di questi tempi tanta, tantissima roba. Sabato prossimo impegno sulla carta proibitivo sul terreno della capolista Cesena, che ha vinto anche a Lucca, gol di Berti. In caso di successo, i romagnoli potrebbero centrare l'aritmetica promozione in B con quattro turni di anticipo, sempre che giovedì 28 marzo la Torres non faccia bottino pieno a Gubbio. Cesena Pescara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rete 8, ore 16 e 15, con ampio pregara a partire dalle 15 e 15.